Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alle richieste delle famiglie gelesi che hanno compilato il questionario fornito in città dalle associazioni oltre il muro e il labirinto di carta per la conoscenza dei bisogni dei soggetti con autismo. Chiedono un centro con personale specializzato che sia di supporto alle famiglie sia per la diagnosi precoce che per il trattamento intensivo e la richiesta delle famiglie gelesi che hanno compilato il questionario fornito in città dalle associazioni oltre il muro e il labirinto di carta per la conoscenza dei bisogni dei soggetti con autismo. I questionari presentati da Marika Cascino ed Angela Tandurella sono stati compilati in forma anonima da 116 famiglie. Di questi 17 sono risultati non valutabili, 33 compilati da famiglie con figli di sesso femminile e 66 con figli di sesso maschile. Quando il genitore fa una richiesta nei centri pubblici deve aspettare delle lunghe file di attesa. Emerge dei questionari che i genitori che scelgono un trattamento pubblico che non intraprendono la causa e proprio a causa di queste code di questa attesa. Mentre chi non sceglie il trattamento privato è a causa per una questione economica. Per quanto riguarda invece la scuola il 60% dichiara di avere delle difficoltà in quello che è l'inserimento scolastico e anche nella gestione del bambino nelle scuole. Mentre il 66% dichiara, delle famiglie ovviamente dichiara di non sapere come impegnare il tempo libero del bambino. Quindi cosa far fare ai bambini durante le attività extrascolastiche. Abbiamo lasciato un grande spazio alla prospettiva dei genitori. Per cui tanti sono stati suggerimenti portati avanti dal potenziamento di strutture già presenti nel territorio alla garanzia di interventi scientificamente validati basati sull'evidenza quali per esempio l'EBA, l'analisi del comportamento applicato o ancora la formazione continua degli insegnanti curriculari e di sostegno o ancora sportelli di ascolto, parent training per le famiglie. E soprattutto un dato molto importante che ci ha un po' toccato è stato proprio il sostegno ai fratelli dei ragazzi con autismo. I dati emersi sono stati consegnati all'amministrazione comunale. L'assessore Ligia Bela, chiedendo il coinvolgimento di tutte le associazioni, ha annunciato la richiesta nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali di maggiori servizi in tema di assistenza, sostegno scolastico ed inserimento occupazionale a Gela. Emergono dei dati che sicuramente vanno confrontati insieme alle altre associazioni che si occupano di autismo all'interno del territorio gelese. E' chiaro che poi ci riproponiamo di oltre confrontarli con loro anche chiamare tutti coloro i quali sono gli attori principali del coinvolgimento delle famiglie che al loro interno hanno ragazzi affetti da autismo e quindi in questo modo cercare di creare un documento che possa essere unico, che possa essere di sollecito sia nei tavoli ministeriali che ovviamente anche in tavoli regionali. Quindi cercare di sollecitare per fare in modo che Gela possa diventare sicuramente un luogo di eccellenza all'interno del territorio nazionale. Sull'offerta di prestazioni riabilitative sanitarie in provincia di Caltanissetta si consuma l'ennesima discriminazione tra versante settentrionale e parte meridionale del territorio. E' sconcertante registrare come l'interland gelese disponga solo di 3 milioni di euro di budget per prestazioni riabilitative rispetto ai quasi 7 milioni di cui, a parità di popolazione servita, usufruisce l'aria adiacente al capoluogo nisseno. E' quanto denuncia il sindaco di Gela, Domenico Messinese, che condivide l'allarme lanciato dall'Aias e accolto dal manager dell'Asp. L'Associazione Italiana Assistenza Spastici di Gela ha chiesto all'azienda sanitaria provinciale la contrattualizzazione delle prestazioni già accreditate in 20 prestazioni di seminterrato e 26 prestazioni domiciliari. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie tenga nella giusta considerazione un territorio come il nostro, ristabilendo la parità di diritti, ha continuato il primo cittadino. Non siamo qui per combattere una guerra tra poveri contro Geltanissetta, ma reclamiamo la dovuta attenzione per numerosi utenti che scontano sulla propria pelle e persino la contraddizione delle mobilità passive verso altre Asp che poi dovranno essere rimborsate dall'azienda sanitaria provinciale. Attendiamo inoltre servizi importanti come centri diurni per soggetti autistici, ma in questo contesto di disparità ci sembra improponibile persino l'essenziale. Ci rivolgiamo anche al deputato regionale di Gela, Giuseppe Rancio, in quanto componente della Commissione Sanità all'Ars, perché venga ristabilita la giusta dotazione finanziaria all'offerta di prestazioni riabilitative sanitarie dopo che siamo già stati compromessi con il piano sanitario sottodimensionato per un ammanco complessivo di circa 10 milioni di euro. E con le nostre telecamere questa mattina abbiamo seguito la solenne messa natalizia, la presenza di tutti gli operatori dell'Aias di Gela e del direttivo che si appresta a concludere la celebrazione dei 40 anni di attività, appuntamento al Pala Livatino. Solenne messa natalizia la presenza di tutti gli operatori dell'Aias di Gela e del direttivo che si appresta a concludere la celebrazione dei 40 anni di attività, appuntamento oggi al Pala Livatino. La celebrazione eucaristica è stata ufficiata da Don Lino di Dio. La cosa più bella che questo Natale ci ha regalato è che l'amministrazione più comunale finalmente ha fatto uscire il progetto ambitissimo, il progetto che da anni cerchiamo di portare avanti e finalmente il dopo di noi sarà una realtà, non sarà più un sogno. Sarà, come ho detto prima poco fa, la casa dei nostri ragazzi, dei nostri assistiti che sono cresciuti all'Aias e rimarranno nell'ambito dove sono sempre stati. Una volta che i genitori non ci saranno più, loro non dovranno andare in nessun posto ma rimarranno sempre nell'ambito dell'Aias perché qua stesso a Tigo all'Aias ci sarà il dopo di noi. Il secondo anno che noi facciamo questo pranzo per questi amici che ci onorano a venire a pranzare con noi. Sono stati serviti da noi, dalle signore che sono venute e penso di farne non uno ma più pranzi perché la nostra casa è la loro casa. Il vice sindaco del comune di Gela, Simone Siciliano. Questi ragazzi hanno la difficoltà di avere un dopo di noi e quindi la presenza dell'Aias sul territorio garantisce anche dopo che le famiglie non sono più nelle condizioni di tutelare questi ragazzi di avere una casa, una casa comune dove in comunione possono continuare a crescere e a vivere la loro vita con tutti i benefit che questa associazione può garantire. Spesso le amministrazioni in generale, quindi senza riferimento alcuno, lasciano delle alcune per incapacità gestionale perché le risorse finanziarie trasferite dal governo nazionale e dalle regioni sono sempre minori e quindi si fa fatica a poter garantire servizi essenziali alla cittadinanza soprattutto per i più deboli. Questo risultato ottenuto è un risultato importante perché permetterà ad un'associazione che ha sempre lavorato sul territorio nell'ambito dei ragazzi con particolari disabilità di potergli garantire un futuro sano così come ogni ragazzo merita sulla città di Gela così come in un altro posto al mondo. Donatori della FIDAS Adas di Gela si recano al centro trasfusionale dell'ospedale Vittorio Emanuele ma non possono dare compimento al loro gesto di solidarietà, cioè dare il loro sangue in quanto al reparto non vi sono medici e quanto accaduto ieri. Il fatto in sé è di una gravità inaudita, si legge in una nota dell'Adas, perché colpisce in primis l'ammalato e quindi la comunità gelese tutta. È inammissibile che la malattia dei medici possa interrompere la fruibilità di un servizio essenziale per il corretto funzionamento di un presidio ospedaliero. La FIDAS Adas evidenzia la necessità per i vertici dell'ASP di dare priorità alla risoluzione del problema e quindi di lottare risorse umane verso il centro trasfusionale di Gela. Il corretto funzionamento del reparto garantisce il pieno svolgimento dell'attività di promozione della donazione del sangue svolta con amore dai volontari della FIDAS Adas nell'interesse della collettività. Il direttivo ha preso in seria considerazione la possibilità di consegnare le chiavi dell'unità di raccolta di Via degli Appennini 5 nelle mani dei responsabili dell'ASP di Caltanissetta e quindi di interrompere una quarantennale attività di volontariato spesa per il territorio della città. E adesso dedichiamo la nostra attenzione al mondo dei salesiani di Gela. ripartono con l'anno nuovo i corsi triennali per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. È nato nel 1960 e in 56 anni ha formato oltre 15.000 giovani con in tasca una qualifica che ha permesso loro, nella maggior parte dei casi, di inserirsi nel mondo del lavoro. Tubisti, saldatori, meccanici, parrucchieri ed estetisti, ma anche addetti alla ristorazione e programmatori informatici. È il mondo dei salesiani e il centro di formazione voluto da Don Bosco al villaggio Aldisio. Una vera e propria eccellenza fatta di professionalità e competenza. E adesso con l'anno nuovo alle porte ripartono i corsi triennali per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Un regalo di Natale tanto atteso. Ci sono ragazzi che hanno finito l'anno precedente, nel 2014, e nel 2017 riprenderanno la scuola. Questo è purtroppo uno dei fatti che esprime in maniera icastica, si potrebbe dire, qual è la realtà del funzionamento delle nostre istituzioni. Però nonostante questo, noi salesiani proprio perché ci crediamo, soprattutto crediamo a quella che è la mission nostra salesiana, quella di essere educatori, di essere vicini ai ragazzi, di poterli accompagnare a che, come diceva Don Bosco, siano onesti cittadini e buoni cristiani. Abbiamo cercato di tenere duro, abbiamo insistito e finalmente speriamo che questo possa essere portato a compimento almeno per questi ragazzi. E questo ce lo auguriamo anche per gli altri, perché non possiamo partire a settembre un primo anno e per i secondi e terzi anni dobbiamo aspettare chissà che cosa. E' già il secondo anno che capita la stessa cosa. Si è partito nel 15, ai primi di settembre per il primo anno, secondo e terzi anni muti, stanno partendo adesso. Siamo partiti nel 2016 a settembre per i primi anni, secondo e terzi anni stanno partendo adesso. Ecco, io spero che questo non sia un andazzo ordinario nelle nostre istituzioni, ma che ci si sappia riprendere. Ecco, anche questo periodo che stiamo vivendo, il periodo del Natale. Certo, per i ragazzi è stata una lieta notizia, come quella del Natale, che finalmente riprendono la scuola. Però io spero che questa lieta notizia può essere vissuta nel clima natalizio e non nell'attesa di riprendere la scuola e che la scuola la possano riprendere ordinariamente. Il CNOSFAP accoglie tantissimi giovani togliendoli dalla strada, strappandoli alla malavita e al lavoro nero. Sì, è proprio questo il problema. C'è tanti ragazzi che in questi anni bighellonano. Che cosa fanno? E la preoccupazione prima dei genitori è la preoccupazione nostra. Invece dar loro l'opportunità, tramite un lavoro, di inserirsi già nel mondo del lavoro, evita questo pericolo per la società, per loro stessi, perché i ragazzi crescano bene, sia umanamente, come dicevo, come anche cristianamente, per le preoccupazioni nostre che abbiamo nell'educazione integrale, completa del ragazzo. Una nuova enciclopedia per arricchire la biblioteca della scuola primaria Enrico Solito di Gela, dedicata al professore Orazio Goldini. La generosa iniziativa porta la firma di Silvio Lishandra, presidente dell'associazione Corsa per la Vita. Un modo per ringraziare il grande maestro di cultura e di vita, ha detto Lishandra, che ha frequentato la classe di Goldini fin dal primo giorno di insedimento avvenuto nel 1961. I volumi che sono stati donati al dirigente scolastico Clizia Nobile riguardano una intera enciclopedia dedicata alla salute e alla prevenzione delle malattie che Silvio Lishandra aveva comprato per i figli quando erano adolescenti. Da oggi pomeriggio la zona traffico limitato nel centro storico di Gela seguirà nuovi orari limitatamente ai verdi sabato e domenica delle prossime settimane fino al 26 marzo. Le disposizioni viggeranno anche nei giorni festivi. In corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Marconi e via Trieste, la circolazione veicolare sarà interdetta dalle 18 a luna del giorno successivo. Dalla lunedì al giovedì invece permangono le fasce orarie che vanno dalle 18 alle 21. Un presepe dedicato ai minori di tutto il mondo, quello allestito all'interno del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e che è stato inaugurato mercoledì 21 dicembre 2016. Una cerimonia in cui erano presenti anche il Presidente della Corte d'Appello Nissena Salvatore Cardinale, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta Antonino Porracciolo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Nisseno Laura Vaccaro, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Stefano Strino e Antonina Sabatino, giudice presso il Tribunale per i minorenni, nonché il Comitato Organizzatore. Un evento a cui hanno preso parte con un'esibizione canora nell'Aula di Udienza del Tribunale per i minori, gli studenti della Corale della Scuola di istruzione secondaria di primo grado Filippo Cordova, appartenente all'Istituto Comprensivo Don Milani, diretti dalla professoressa Laura Failla. La Corte d'Appello dà al Natale il risalto che esso merita. Tutti gli uffici giudiziari di questa città sono stati creati degli appositi presepi frutto del lavoro, dell'immaginazione, della maestria di chi li ha saputi creare e realizzare. Evidentemente il Natale ha tanti significati. Un significato di tradizione, ha un significato di modello, la Sacra Famiglia, ha un significato anche di sapori, di odore, di familiarità che ci riporta a tempi passati, ad affetti, a momenti particolarmente gradevoli della nostra vita. Natale è anche un momento in cui siamo chiamate un po' a rimeditare su ciò che è avvenuto nel corso dell'anno e quindi a fare un po' un consuntivo del tempo che ci è stato concesso. L'iniziativa è partita dal personale a cui devo dare atto, onore e merito di aver avuto quest'idea. Se ci si sofferma sui particolari di questo presepe, si noterà che il luogo proprio della Natività vede due parti ai fianchi, ai lati. Da un lato il Tribunale per i minorenni e dall'altro il mare che vuole simboleggiare il luogo da cui, ahimè, presto che quotidianamente arrivano i minori stranieri non accompagnati e che il Tribunale per i minorenni prende in carico per la prima tutela che è l'ordinamento appreste nei loro confronti. Ai minori di tutto il mondo, per ogni bambino salvato dal mare altrettanti riposano in esso. Per ogni bambino che viene al mondo, nel posto giusto, al momento giusto e tra le braccia giuste, altrettanti invece subiscono violenza, vivono l'abbandono, patiscono la fame. Questo presepe è dedicato a loro. Torna il presepe vivente allestito dalla associazione SMAF Sport, Musica, Arte e Folclore preseduta da Gaetano Davide Arizzi. Appuntamento ai prossimi 25, 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte. E in edicola, e lo vediamo, il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale. Questi gli argomenti più importanti di questo numero, il protocollo delle tribù e il titolo forte del servizio di apertura della prima pagina, a firma di Sebastiano Abbenante, che tra l'altro si chiede come il territorio sta gestendo la riconversione della fabbrica dell'Eni. Giulio Cordaro, nella sua rubrica, fa il bilancio di fine anno bocciando la politica ed aprendo alla speranza di un nuovo impegno per il prossimo anno. Il Partito Democratico Gelaese, dopo la potesta al referendum, si interroga su cosa fare da qui in avanti. Il servizio è di Nello Lombardo. Nell'interno, l'attualità e la cultura, Lucrezia Ferro si occupa della crisi del commercio in questo Natale, intervistando i rappresentanti delle categorie. Poi c'è anche un altro articolo dedicato al coordinamento delle donne per il territorio con un'intervista alla coordinatrice Luciana Carfì. Infine lo sport, con le finestre sugli impegni calcistici di Gela e Terrenova. Il Corriere, per queste feste di Natale, sospende le pubblicazioni. Il giornale tornerà in Edicola, sabato 14 gennaio. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, tale 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del secchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso. Pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del secchetto compostabile, dalle 22 alle 5. Anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Per un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Rieccoci in seconda parte del telegiornale, concerto di Natale oggi alle 19.15, nei locali di Palazzo Vignatelli Roviano a Gela si esibiranno Melissa Minardi, mezzo soprano, Felice Internullo Tenore e Francesco Falci, pianoforte. L'iniziativa è dell'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune. Arriva a Caltanissetta Michele Vaira, il presidente nazionale AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, per salutare la nuova sezione nissena. Un incontro avvenuto nella mattina di martedì 20 dicembre 2016, nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'interno del Palazzo di Giustizia Nisseno. La sezione di Caltanissetta dell'Aiga è stata ricostituita il 21 novembre 2016, mentre a inizi dicembre si è svolta la prima assemblea. Diciamo che l'Aiga a livello nazionale sta lavorando su diversi temi. Uno di questi è la Previdenza. Abbiamo raggiunto, grazie all'intesa col governo, la possibilità per i giovani che erano iscritti alla gestione separata IMSS di ottenere il cumulo gratuito con i contributi versati con Cassa Forens. L'altro obiettivo è quello di modificare parzialmente i regimi dei minimi, così come abbiamo interesse a far partire finalmente il discorso delle specializzazioni che per noi costituisce davvero una grande prospettiva per gli Avvocati di rimanere in un mercato dove i numeri paradossalmente costituiscono una difficoltà. Con la specializzazione invece i giovani Avvocati possono trovare e mantenere una propria strada. L'altro è l'omogeneizzazione del regolamento specializzazioni con quello sulla disciplina dell'accesso innanzi alle magistrature superiori, il cosiddetto regolamento cassazionisti. Un argomento molto tecnico ma molto sentito tra i giovani che per poter essere specialisti e cassazionisti oggi devono compiere due percorsi diversi ma assolutamente sovrapponibili, quindi con un dispendio enorme di energia. Lo scopo che ci siamo prefissi è quello di iniziare subito a lavorare nell'interesse della giovane Avvocatura. A questo proposito abbiamo già sollecitato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta ad effettuare una prima riflessione sui costi che i giovani Avvocati e i praticanti si trovano a dover affrontare all'inizio della propria attività professionale, quindi sia per ciò che concerne l'avviamento di una nuova attività professionale che il consolidamento di un'attività professionale giovane. A questo proposito il tema è già sul tavolo del Consiglio dell'Ordine dei Caltanissetta, speriamo a breve di sortire degli effetti benefici per la giovane Avvocatura in generale. Ovviamente questa non è l'unica iniziativa che noi abbiamo già intrapreso, ne abbiamo in cantiere delle altre, l'intenzione è quella di fare sentire nel territorio un'associazione presente e attenta ai bisogni della giovane Avvocatura. A questo proposito abbiamo già costituito lo sportello del praticante, che è un ufficio che svolgerà prevalentemente funzioni di orientamento per i nuovi ingressi nel mondo dell'Avvocatura e abbiamo in animo di realizzare, di mettere in moto delle commissioni di lavoro con dei compiti specifici. La Confcommercio Gela sta avviando i corsi sulla sicurezza, si tratta del corso responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore, rischio basso, e del primo soccorso di 12 ore, rischio basso e medio. Gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria in via Cicerone 104-110, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. C'è anche un numero telefonico 0933-939718. La pagina dello sport, calcio, paleggio, ieri del Gela, sul difficile campo di Torre del Greco, sotto di un gol, i biancazzurri hanno impattato con l'attaccante Bonanno. Vediamo la cronaca. La Turis non sa più vincere. I Corallini impattano per 1-1 contro il Gela, con la vetta che ormai resta solo un miraggio. Mister Baratto nel recupero della partita della quindicesima giornata si affida ai nuovi acquisti. Eschiera a Bagnale Trepali, linea difensiva formata da Gallo, Perinelli, Di Girolamo e Marauci. A centrocampo Somma, Morella, De Rose e Tedesco. In avanti il duo in pro Tavariale. Risponde il Gela di Mister Infantino, con Vizzi, Kidichimo, Bruno, Evola, Brucaletta, Campanaro, Candiano, Schicciano, Bonanno, Montalvano e Cosovan. Al quinto Turis è pericolosa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Di Girolamo, che ruba bene il tempo agli avversari, ma il suo colpo di testa finisce di poco fuori. Al quattordicesimo ci prova Cosovan con un tiro a cross, blocca a Bagnale. Un minuto più tardi è il turno di Candiano, che lascia partire una conclusione, che si spegne di poco fuori. Al diciannovesimo, Turis in vantaggio, gran giocata di Tedesco sulla destra, l'esterno Corallino viene atterrato in area di rigore. Per l'arbito non ci sono dubbi e assegna la massima punizione. Dal dischetto è lo stesso numero 10 Corallino a non lasciare scampo all'estremo difensore ospite. Turis 1, Gela 0. Alla mezz'ora Tedesco prova ancora un'azione personale, ma il suo tiro si spegne sul muro ospite. A fine primo tempo il Gela si fa rivivo dalle parti di Abagnale, col chi di Chimo, bravo l'estremo difensore Corallino a dire di no. Pronti via e nel secondo tempo gli ospiti trovano subito il pari, con Bonanno, abile a concretizzare al meglio un'azione magistrale di contropiede. Nel finale ci prova prima De Rosa e poi Tedesco, ma non basta. All'Iguri a fine partita continuano i fischi di una telefoseria. La pagina dello spettacolo in proiezione alle 19.30 al Cineteatro Antidoto, il cartone animato Rock Dog. Alle 21.30 invece sarà proiettato il film La Cena di Natale con Riccardo Scamarcio. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.